dice maria anche il mio giuseppe ha avuto la sua passione ed essa è nata in gerusalemme quando gli apparve il mio stato ed essa è durata dei giorni come per gesù e per me né essa fu spiritualmente poco dolorosa e unicamente per la santità del giusto che m'era sposo fu contenuta in una forma che fu talmente dignitosa e segreta che è passata nei secoli poco notata oh la nostra prima passione chi può dirne la intima e silenziosa intensità chi il mio dolore nel constatare che il cielo non mi aveva ancora esaudita rivelando a giuseppe il mistero che egli lo ignorasse l'avevo compreso vedendo l'omego rispettoso come di solito se egli avesse saputo che portavo in grembo il verbo di dio egli l'avrebbe adorato quel verbo chiuso nel mio seno con atti di venerazione che sono dovuti a dio e che egli non avrebbe mancato di fare come io non avrei ricusato di ricevere non per me ma per colui che era in me e che io portavo così come l'arca dell'alleanza portava il codice di pietra e i vasi della manna chi può dire la mia battaglia contro lo scoramento che voleva soverchiarmi per persuadermi che avevo sperato in vano nel signore oh io credo che fu rabbia di satana sentì il dubbio sorgermi alle spalle allungare le sue branche gelide per imprigionarmi l'anima e fermarla nel suo orare il dubbio che è così pericoloso letale allo spirito letale perché è il primo agente della malattia mortale che ha nome di sperazione e al quale si deve reagire con ogni forza per non perire nell'anima e perdere dio chi può dire con esatta verità il dolore di giuseppe i suoi pensieri il turbamento dei suoi affetti come piccola barca presa in gran bufera egli era in un vortice di opposte idee in una ridda di riflessioni l'una più mordente e più penosa dell'altra era un uomo in apparenza tradito dalla sua donna vedeva crollare insieme il suo buon nome e la stima del mondo per lei si sentiva già segnato a dito e compassionato dal paese vedeva il suo affetto e la sua stima in me cadere morti davanti all'evidenza di un fatto la sua santità qui splende ancor più alta della mia ed io ne rendo questa testimonianza con affetto di sposa perché voglio lo amiate il mio giuseppe questo saggio e prudente questo paziente e buono che non è separato dal mistero della redenzione ma si bene è ad esso intimamente connesso perché consumò il dolore per esso e se stesso per esso salvandomi il salvatore a costo del suo sacrificio e della sua santità fosse stato meno santo egli avrebbe agito umanamente denunciandomi come adultera perché fossi lapidata e il figlio del mio peccato perisse con me fosse stato meno santo Dio non gli avrebbe concesso la sua luce per guida in tal cimento ma Giuseppe era santo il suo spirito puro viveva in Dio la carità era in lui accesa e forte e per la carità vi salvò il salvatore tanto quando non mi accusò agli anziani quanto quando lasciando tutto con pronta obbedienza salvò Gesù in Egitto brevi come numero ma tremendi di intensità i tre giorni della passione di Giuseppe e della mia di questa mia prima passione perché io comprendevo il suo soffrire né potevo sollevarlo in alcun modo per l'ubbidienza al decreto di Dio che mi aveva detto taci e quando giunti a Nazareth lo vidi andarsene dopo un laconico saluto curvo e come invecchiato in poco tempo né venire a me alla sera come sempre usava vi dico figli che il mio cuore pianse con ben acuto duolo chiusa nella mia casa sola nella casa dove tutto mi ricordava l'annuncio e l'incarnazione e dove tutto mi ricordava Giuseppe a me sposato in una illibata verginità io ho dovuto resistere allo sconforto alle insinuazioni di Satana e sperare, sperare, sperare e pregare, pregare, pregare e perdonare, perdonare perdonare al sospetto di Giuseppe al suo sommovimento di giusto sdegno figli, occorre sperare pregare, perdonare per ottenere che Dio intervenga in nostro favore vivete anche voi la vostra passione meritata per le vostre colpe io vi insegno come superarla e mutarla in gioia sperate oltre misura pregate senza sfiducia perdonate per essere perdonati il perdono di Dio sarà la pace che desiderate o figli grazie